c'è una preghiera tipica della chiesa del tempo di quaresima chiamata via crucis è quella preghiera che fa ripercorrere tappa per tappa tutta la fatica che gesù ha dovuto fare dall'ultima cena fino alla sua morte in croce anche in questa app trovi ogni giorno la possibilità di fare un pezzo di via crucis ne facciamo un pezzettino brevissimo adesso insieme ti adoriamo cristo e ti benediciamo e tu rispondi perché con la tua santa croce hai redento il mondo i soldati fermarono un uomo che tornava dalla campagna originario di cirene si chiamava simone lo presero e lo costrinsero a portare la croce aiutare qualcuno oggi e fare come il cireneo e aiutare il signore